Se io dovesse fare questa cosa pensando solo che il bassi lo faccio solo con il pollice e il tapo solo con questo, diventerebbe un problema perché avrei dovuto fare doppi colpi o doppi colpi di qua per fare una doppia punta e questo finché sono fino a 110 di metroni va bene, dopo quando comincia a passare lì diventa tutto un po' più affannoso i doppi colpi diventano più complicati, quindi questa qualità di vendere questo è molto buono D'altra parte io usavo molto questa tecnica che è una cosa che pochi usano in Brasile spesso lo vede, quando vede un potenista facendo questo, lui normalmente farà questo Anche qua ci ho pensato a questo, ragionando un po' sulle tabla, su alcuni strumenti come il RIC alcuni strumenti medio orientali dove l'uso di questo, addirittura usano indici medio però faccio un po' di peso faccio un samba o anche cosa più moderna e anche se lo suono in questo modo, mi risuono buonmente questo ti permette per esempio in un brano di fare un cambiamento semplicissimo ma che ha un suo effetto per esempio di tenerlo fermo diciamo su una parte, la prima parte del brano se fosse un samba anzi facciamo una cosa più moderna appunto quando arriva la seconda parte per esempio se fosse un samba se fosse un samba se vuole intensificarlo